Si è tenuta questo pomeriggio all'hotel Alexander Museum Palace l'assemblea statutaria quadriennale degli albergatori di Pesaro che dopo otto anni e due mandati ha visto Fabrizio Oliva congedarsi dalla presidenza dell'Apo Hotels. Unico candidato alla successione Paolo Costantini, la cui nuova presidenza fino al 2025 sarà formalizzata nella giornata di domani. Oliva lascia la presidenza col conforto di una stagione di ripartenza dalla pandemia ma anche con tante riflessioni sulle migliorie da apportare alla vocazione turistica cittadina. Covid non ha portato ad andare in vacanza all'estero molti italiani che hanno frequentato i nostri litorali, quindi il nostro paese, l'Italia integralmente e la mancanza di stranieri è stata compensata da questo fenomeno e quindi forse questo è l'unico lato positivo del Covid che ha dato insomma piena occupazione almeno per i mesi di agosto, settembre e in parte anche in luglio e ci fa ben sperare anche per le prossime scadenze per gli alberghi annuali che sono i mercatini di Natale che per effetto del Covid negli ultimi due anni erano stati aboliti. Intanto bisogna crederci sul turismo e sulla destinazione turistica di Pesro per cui per fare questo bisogna investire. Fino ad oggi in termini di accoglienza e di promozione abbiamo ottenuto un'ottima collaborazione con il Comune di Pesro ma sulle opere importanti ci sono parecchie carenze. Per cui la prima questione che ho avuto a modo di sottolineare sulla stampa è quella del Genica e della zona di Levante, la seconda questione è quella degli Areneli, la terza questione è quella della Movida, la quarta questione è quella del rinnovamento del lungomare dove noi non possiamo arredare il lungomare con le lampade dell'IKEA per cui è su questo visto che girano parecchi soldi che la nostra città deve investire e deve dimostrare che ci crede veramente nel turismo.